le aggraffatrici redline rappresentano una scelta diffusa per piegare e spianare giunzioni o ripianare lamiere di metallo in cantiere la profondità di 31,75 mm delle mascelle di acciaio forgiato è graduata in incrementi di 6,4 mm le aggraffatrici redline manuali sono disponibili in larghezze da 83 e 152 mm è inoltre disponibile un modello offset in larghezze da 83 mm ideale per lavorazioni sopralevate le aggraffatrici redline dalla presa potente sono regolarmente utilizzate per spostare lamiere di metallo in cantiere ed evitare il contatto con bordi acuminati grazie a tutti